Metti un like al commento se sei appoggiato sul braccio sinistro Sta zitto Quindi che cosa vuoi fare? Oh che strano Amico credo che stiamo passando troppo tempo insieme Davvero tanto Davvero tanto Taaanto Ok smettila di copiarmi Smettila di copiarmi Cavolo Così mi stai facendo impazzire Ok tu stai zitto e io dico qualcosa Di qualcosa No tu non parli io si No tu tu stai zitto Dannazione Ok seriamente ma che cazzo Ci sono Di qualcosa di completamente casuale Pronto? 1 2 3 Barararama ma che cazzo Perché cazzo l'hai detto anche tu Non è nemmeno una parola vera Ok smettiamola di parlare Ok dovrebbe essere finita Merda Ci sono Mandiamoci un messaggio invece che parlarci Perché l'hai detto di nuovo? Non ha alcun senso Dobbiamo finirla adesso Sul serio smettila Smettila Paro velocemente così che tu non possa stare dentro a ciò che sto dicendo TIAVOLO Anche i versi degli animali ma dai Miau fanculo Adesso basta Adesso ti stendo così che non sentirò più la stupida voce e ripetere tutto ciò che dico Prendi questo stronzo Aspetta io non so dare pugni È finita finalmente Sta fermo lì Per quale motivo l'hai ucciso? È tutto un malinteso È successo qualcosa di molto strano Abbiamo iniziato a parlare allo stesso tempo e ci stiamo facendo diventare matti ma È finita adesso È finita adesso Oh lascia che la prenda Oh scusami tanto Stai dicendo le stesse cose che dico io? Sta accadendo di nuovo No La maledizione della conversazione continua così per anni Quindi bambini state attenti Qualsiasi cosa state dicendo allo stesso tempo con qualcuno potrebbe essere una maledizione Ehi Michael che fai? Oh niente sto finendo una narrazione riguardo a nuota maledizione delle conversazioni Beh quando è finito ti vai di andare a prendere il pranzo? Assolutamente Ah ah divertente Seriamente smettila devo finire questa narrazione Alla finita D'accordo ho capito Ma si è chiamata da vecchia maniera Sul serio? Non aspetti nemmeno con questa puntata? Dannata maledizione Dannata maledizione